Sono duemila le presenze che si sono registrate a Favignana per partecipare a The DJ Home Festival a quattro giorni dedicata alla musica del panorama house disco afro funky che ha inaugurato la stagione estiva alle Egadi e la Prodolisse a Calagrande quartier generale del festival. Sono state registrate duemila presenze tra i residenziali cioè coloro che dormivano all'interno della struttura e chi ha raggiunto l'isola apposta per il mega party. Per il quarto anno consecutivo si sono incontrati artisti e pubblico di culture diverse. I giovani arrivati da ogni parte del mondo hanno potuto scoprire tutti gli angoli dell'isola dalle cale all'ex stabilimento Florio al giardino ipogeo. L'obiettivo che ci siamo sempre prefissati è quello di destagionalizzare ha ribadito Francesco Culcasi della making partners e cioè portare sull'isola in periodi fuori stagione appassionati di questo genere di musica che così hanno la possibilità di conoscere e diverci. Quest'anno più delle tre edizioni passate abbiamo raggiunto appieno l'obiettivo soprattutto in un momento difficile per il nostro territorio vista la riduzione dei voli all'aeroporto di Trapani Birgi. Il festival è stato studiato per far vivere anche il centro dell'isola. La line up di quest'anno infatti ha incluso quattro ore di musica non stop nelle serate principali dei locali del centro. Il festival sicuramente la prima cosa è il tempo che è stata sin dall'inizio un'incognita per noi e per l'organizzazione ovviamente anche dopo l'edizione scorsa eravamo tutti con le dita incrociate che facesse bello e seconda cosa sicuramente l'affetto delle persone del posto perché ogni anno insomma si creano relazioni sempre più forti c'è una partecipazione sempre maggiore da parte delle persone del luogo dell'isola e da tutti si sente sempre di più questo feeling e questo attaccamento ad una manifestazione che sta diventando comunque importante per tutto il territorio siciliano e cosa che viene avvalorata appunto dalle presenze internazionali che adesso sono sempre più diversificate a livello anche di paesi non solo l'Europa quindi la Francia ovviamente come primo paese partecipante ma anche da paesi come gli Stati Uniti abbiamo gente da San Francisco. I numeri sono veramente alti perché comunque June Experience Favignana quest'anno è stato un catalizzatore di persone verso l'isola in un periodo abbastanza delicato per il nostro territorio visto che l'aeroporto di Trapani è quasi chiuso quindi con i voli e siamo riusciti proprio a riempire l'isola addirittura sono state fatte le corse straordinarie proprio per i festival la doppia identità del festival nel paese con i baretti sono arrivate migliaia di persone quindi numeri veramente importanti e siamo molto contenti di questo. Quando abbiamo iniziato il progetto assieme all'amministrazione comunale che comunque ci supporta sempre per tutta l'iniziativa bisognava organizzare un evento che potesse far sì che l'Isola Ega allungassero la stagione estiva quindi la destagionalizzazione in questi anni infatti è stato fatto sempre in periodi comunque non di alta stagione sì ovviamente. La prima cosa sicuramente il meteo che è stato molto bello soprattutto tanta partecipazione e anche dalla gente locale in centro abbiamo visto con i locali insomma una partecipazione veramente sentita da parte delle persone che proprio trasmettono questa voglia di stare insieme tutti raccolti dalla musica e ovviamente l'impatto che questo da noi artisti lo percepiamo ed è una cosa che ci fa molto piacere.